Il Consigliere Comunale Luigi Mele, Torre del Greco, ha il voto in primavera. Qual è al momento la sua posizione? Io ho dato la mia disponibilità in quanto cinque anni fa sono già stato candidato sindaco a Torre del Greco con le liste di centrodestra. Chiaramente la mia posizione adesso rimane tra virgolette invariata nel senso che se i consiglieri comunali, se la cittadinanza pensa che possa essere il giusto candidato io sicuramente non mi tiro indietro. Ho fatto in passato il passaggio con l'amministrazione Palumba solo per dare una mano alla città. Eravamo in una situazione veramente catastrofica dal punto di vista dei rifiuti. Oggi sicuramente non abbiamo risolto il problema perché penso che non sia facilmente risolvibile. Saranno anni che ormai c'è un problema serio sui rifiuti a Torre del Greco. Però sicuramente qualcosa in più nell'ultimo anno e mezzo è stato fatto da quando io con l'assessore Mitabella stiamo dando una mano in questo settore. Se ci sarà la possibilità di ripetere l'esperienza di candidato sindaco io ci sarò sicuramente. Immaginando un programma politico quali sarebbero secondo lei tre obiettivi cardine da portare avanti per questa città? Allora le cose da fare sicuramente in città sono tantissime. Diciamo che sono stati cinque anni in cui c'è stato un appiattimento e quindi è necessario iniziare da cose fondamentali. Va rivisto un attimino il piano dei rifiuti e quindi va fatto un discorso diverso alla cittadinanza su come raccogliere e come proporre alla città la raccolta dei rifiuti. Perché abbiamo visto che il porta a porta può funzionare bene in alcune zone, magari non meno bene in altre zone, soprattutto nel centro storico. Quindi è necessario fare in modo che ci sia un tipo di raccolta misto. Tutto questo anche per aumentare i dati della raccolta differenziata che come sappiamo chiaramente in questo momento sono a quanto bassi. E tutto ciò significa avere comunque una tassa di rifiuti sempre più alta. Ovviamente devono aumentare anche i controlli in città perché ci troviamo sempre più rifiuti abbandonati. E tutto questo comporta che magari il servizio viene in qualche modo trascurato da una parte per recuperare poi questa parte di rifiuti abbandonati. La prima sicuramente è la lentezza urbana, secondo il verde pubblico. Poi chiaramente dobbiamo cercare, viste le potenzialità della città, si parla da anni ormai del turismo, di portare a torre cittadini che possono visitare la città. È vero che abbiamo delle potenzialità enormi, però magari tutte queste piccole cose, che sono cose che facilmente si possono fare, ci potrebbero dare la possibilità di far arrivare persone da fuori e quindi avere la possibilità di poter visitare le città di Mitrofe o arrivare facilmente da Dischia a Capri, a Sorrento, visto che la nostra città è posizionata al centro del golfo. Il settore NU è indubbiamente un settore complicato. Quali sono gli obiettivi che lei porta a casa da quando ha questa delega? In un anno e mezzo non è tantissimo tempo, però dei risultati si sono visti. Nell'ultimo periodo stiamo iniziando a vedere anche uno spazzamento più importante sulle strade principali. Ricordo ancora ai cittadini che abbiamo chiesto ai Comandanti dei Vici Urbani di porre dei segnali di divieto di sosta. Ogni 15 giorni sulle strade principali sono previsti questi segnali, però purtroppo capiamo che i cittadini ancora non riescono a seguire questo tipo di attività e a rispettare i segnali. In molte città non esiste la doppia raccolta, esiste la raccolta unica, quindi se ogni sera si deposita una sola tipologia di rifiuti, chiaramente davanti a un condominio, anziché trovarci 10 buste, ne troveremo 5. Quindi anche questo significa dare la possibilità alle persone magari di mettere dei punti in cui poter depositare la plastica, doper depositare il vetro, così magari eliminiamo dalla raccolta questa tipologia di rifiuto, che comunque non crea problemi in casa perché non dà cattivo odore, e rafforzare quello che magari è la raccolta dell'umido, dell'indifferenziata, della carta che magari può essere in qualche modo più difficoltosa. Tornando allo scenario politico, c'è chi al momento ha già ufficializzato la sua candidatura, chi invece no. Che cosa ne pensa lei degli schieramenti che si stanno delineando? Mi viene da fare una battuta perché la faccio spesso. A 18 anni già votavo le persone di cui oggi si sente di nuovo il nome come candidati sindaci. Oggi ne ho 48 e si ripropone ancora questa cosa. Io spero che magari la città, i consiglieri comunali, possano fare delle riflessioni giuste e cercare anche di vedere, una volta e per sempre, di iniziare a svoltare da una parte o dall'altra in maniera tale da trovare delle soluzioni diverse. Lei diceva che non si tirerebbe indietro di fronte ad un invito a candidarsi, ma perché scegliere Luigi Mele? Luigi Mele almeno l'ha dimostrato in questo anno e mezzo in cui ha avuto la possibilità di fare qualcosa per la città, perché stare all'opposizione è facile per tutti quanti. Sarà all'opposizione significa criticare ciò che non viene fatto, invece stare dall'altra parte e avere la possibilità di fare, non riuscire a fare, è chiaramente diverso. Luigi Mele nell'ultimo anno e mezzo ci ha messo la faccia e scende in strada, sia per la nettesa urbana, sia per il prete pubblico, sia per la polizia municipale, cerca di essere presente in fronte a tutte le varie necessità da parte dei cittadini. Luigi Mele è la persona che cerca di fare, ha voglia e volontà di cambiare il volto della città. Chiaramente se me ne sarà data possibilità, ben venga, se non ci sarà questa possibilità, vuol dire che la gente avrà deciso in maniera diversa. Un sindaco dunque in definitiva deve metterci la faccia, deve interagire con il cittadino? Io credo che il sindaco deve essere presente per strada 24 ore al giorno, perché solo così facendo ha la possibilità di capire quelle che sono le problematiche e le difficoltà. Chi sposa una causa politica, chi ha interesse ad essere presente in prima persona all'interno dell'amministrazione, ci deve mettere la faccia e deve essere presente in strada. Se non ha possibilità di fare questo, chiaramente non può fare, nel sindaco e nel consigliere, perché le persone ci votano proprio perché hanno necessità di ritrovarci e raccontarci i propri problemi, le proprie difficoltà. Se tutto questo non si riesce a fare, significa che non è giusto fare politica.